Amici di Daily Basket, siamo qui oggi con il professor Mondoni, uno dei massimi esperti mondiali di mini basket, per illustrarci quello che è emerso all'ultimo seminario che si è svolto in Uruguay a Montevideo dal titolo Basketball Educativo. Allora, che cos'ha da insegnare il Sud America al mini basket? Sicuramente è un mini basket meno aggressivo, meno competitivo, un mini basket, come hanno definito i brasiliani, poesia. Quindi chi insegna mini basket deve essere in grado di recitarla bene, questa poesia qui. Quindi ho trovato un mini basket più tranquillo, più a misura di bambino, insomma, non un mini basket esasperato. Anche perché i bambini hanno perso, dopo due minuti non si ricordano più che hanno perso e quindi possono ricominciare a giocare. Forse qui da noi è un po' più esasperato, insomma, penso. Ecco, un'esaspirazione a volte che si traduce anche nell'inserimento di alcuni elementi tattici che forse non dovrebbero essere presenti a livello del mini basket. Sicuramente i raddoppi difensivi, la difesa zona non fa parte del mondo del mini basket. Però purtroppo qualche istruttore per vincere partite adotta questi stratagemmi che non mi sembrano molto educativi. Ecco, restando invece la dimensione più genuina del mini basket, una cosa molto interessante che è emersa da questo convegno è che l'allenamento deve sempre avvenire nella dimensione prestativa, cioè i bambini devono essere abituati a situazioni di gioco. Sicuramente non possiamo prevedere schemi o tattiche predefinite, cioè i bambini devono giocare con degli esercizi gioco che rappresentano una situazione vera di partita, in modo che quando giocheranno l'avranno già rappresentata mentalmente e quindi sarà andata anche a memoria e quindi potranno riprodurla subito. Questo è sicuramente la cosa più importante del mini basket, presentare situazioni reali di gioco. Un'altra cosa molto interessante, molto legata agli sviluppi anche dello sport professionistico, è il condizionamento della forza che si consiglia di evitare o quantomeno di gestire in un modo differente rispetto a quanto si è soliti fare. Sicuramente l'argomento è stato affrontato dal preparatore atletico nazionale argentina di basket che ha vinto i giochi olimpici di Atene nel 2004 che ha affermato determinate cose di cui io sono pienamente convinto, cioè che fino a 12-13 anni bisogna lavorare e giocare a carico naturale con i piccoli attrezzi, dopo i 13 anni si comincia un po' a caricare ma fino a 15-16 non si può lavorare né sulla forza esplosiva né sulla forza resistente perché si dovrà lavorare dopo quando avremo già fatto un discorso sulla mobilità articolare e quant'altro. Ecco, emerge l'importanza della coordinazione che sembra essere l'elemento veramente determinante rispetto alla tecnica e anche alla tattica come dicevamo prima. Allora, la coordinazione è una capacità coordinativa sulla quale bisogna cominciare a lavorare subito a 6-7 anni con esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, eccetera, anche perché è la base della tecnica, senza la coordinazione non puoi insegnare la tecnica, ma anche senza una corretta educazione e capacità motorie non puoi migliorare la tecnica esecutiva dei gesti. Ecco, per concludere, uno sguardo d'uccello alla situazione italiana, diciamo se il basket brasiliano è poesia, ecco forse quello italiano è ancora un po' in prosa, quali sarebbero gli elementi da importare per rendere il discorso più poetico? Sicuramente un mini-basket potrei chiamarlo a misura di bambino, difatti io sto con i bambini, la tecnica c'è tempo più avanti per insegnarla, rispettiamo questi bambini che hanno bisogno di recitare bene la poesia del mini-basket. Va bene, ringraziamo il professor Mondoni, noi ci saremo sempre per seguire il mini-basket. Grazie.